Buonasera a tutti sono la maga Maria e mi porto la fortuna che sono la maga Maria e mi do consigli pronto sono la maga Maria pronto sono la maga Maria Maria si senti ciao mi chiamo Tommaso devo sapere un attimino la mia fortuna sul lavoro e sull'amore si la fortuna ce l'hai ora vediamo vedo le carte non ti senti buona come non ti senti buona sono la maga Maria si sente pronto? si si sono la maga Maria oh ciao Maria senti qua io mi chiamo Tommaso si ho capito quant'anni hai? quant'anni tengo io? si 55 bene l'ipote ho le delle carte ma come mai si sente così male Maria? perché sono la maga Maria la fortuna ce l'hai lavoro si l'amore si ma ce l'ho il lavoro quest'anno? si ma tu come fai a sapere senza che ti trovi a dare di nascita e niente? come la nascita? le vedi le carte? eh ho capito senti io sono la maga Maria vedi che tu la fortuna ce l'hai eh allora la fortuna io ce l'ho e lavoro pure? si e l'amore pure va bene grazie Maria sei gentilissima perché ho dei tuoi consigli che sono la maga Maria? oh un bacione anche a te auguri anche a te Maria grazie perché ho dei tuoi consigli buone ciao 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 ciao